Il governo l'approva in Parlamento sull'invio delle armi all'Ucraina, oggi le comunicazioni di Draghi al Senato, sul Consiglio europeo in programma giovedì. Questa mattina riunione di maggioranza per trovare un'intesa sulla risoluzione da votare. Restano le tensioni nel Movimento 5 Stelle, tregua armata tra Conte Di Maio con il Ministro degli Esteri che valuta l'uscita. Si apre un nuovo fronte nello scontro tra la Russia e l'Occidente. La Lituania, applicando le sanzioni europee, ha fermato i treni diretti nella città di Kaliningrad e in Clavrus, situata tra Polonia e Lituania. La decisione del governo di Vilnius ha fatto infuriare Mosca. Se la misura non sarà revocata, reagiremo. Le regioni stanno valutando la possibilità di ordinanze per razionare l'acqua al nord, come il divieto di riempimento delle piscine e l'uso dell'acqua per i soli fabbisogni primari a causa dell'emergenza a siccità. Situazione grave per il POM, ma l'osservatorio indica di continuare con l'irrigazione. Crescono i timori per l'agricoltura e i governatori pronti a chiedere all'esecutivo la dichiarazione dello Stato di emergenza. È una super Italia, quella dei mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Budapest. In una sola giornata, tre medaglie d'oro, quella di Thomas Ceccona nei 100 metri d'orso con il record del mondo. Il primo posto della 17enne Benedetta Pilato nei 100 rana femminili. Il terzo oro di un lunedì storico è quello del sincro, duo misto con Lucrezia Ruggero e Giorgio Minisini. Le 7.30, buongiorno a tutti voi e ben ritrovati. Dunque, in primo piano c'è la politica, perché oggi il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, riferirà in Senato sulla guerra in Ucraina e sul Consiglio europeo che si tiene. Giovedì prossimo è il voto del Parlamento sui contenuti delle risoluzioni. Potrebbe mettere a rischio la tenuta della maggioranza e quindi del Governo. Vediamo il servizio. E corsa contro il tempo sulla risoluzione sull'Ucraina, aggiornata stamattina alle 8.30 alla riunione di maggioranza. L'accordo è molto vicino, assicurano i capigruppo. Poi toccherà all'Aula testare la tenuta della stessa maggioranza. Alle 15.30 Draghi sarà al Senato per le comunicazioni sul Consiglio d'Europa, domani alla Camera, su cui si voterà. E sono i tormenti e le divisioni dei 5 Stelle a tenere inchiodato il Governo. Nel vertice fiume di ieri con i capogruppo, presieduti dal Ministro per i rapporti con il Parlamento d'Inca e dal sottosegretario con delega agli affari europei, il Dem a Mendola, sono stati fatti passi in avanti. Superato l'ostacolo stop all'invio di armi a Kiev, rimane la richiesta grillina di un maggiore coinvolgimento del Parlamento in caso di ulteriore invio di armi. Respinta invece l'ipotesi di un voto per ogni passaggio, anche perché sotto l'ombrello della risoluzione votata nel marzo scorso, l'esecutivo ha agibilità politica fino a dicembre. Per il Premier inoltre sarebbe impossibile affrontare le prossime scadenze internazionali, Consiglio europeo, G7 e Vertice Nato, tutte nel giro di una settimana, senza un pieno mandato politico. Tramontata anche l'ipotesi di un metodo di PCM utilizzato da Conte durante la pandemia, cioè utilizzare informative senza voto. Sugli altri punti, dai fondi europei contro la crisi alle forniture energetiche, il sì della maggioranza è invece scontato. Sulla crisi di governo non scommette nessuno, però nella Lega, nonostante Salvini si sia espresso più volte sul no a nuovi invii di armi, né soprattutto il PD, che guarda però con preoccupazione al futuro del campo largo di centrosinistra. E allora, tra le forze politiche resta alta la tensione soprattutto nel Movimento 5 Stelle con le posizioni contrapposte di Conte e Di Maio. Sulla questione è intervenuto anche il Presidente della Camera, Roberto Fico, mentre Beppe Grillo, che è atteso nei prossimi giorni in Roma, dice così, finiamo per biodegradarci. Vediamo. Nell'ennesimo giorno della lunga crisi interna al Movimento 5 Stelle, che vede una contrapposizione netta tra Luigi Di Maio e i pentestellati, a lui più vicini da un lato, è Giuseppe Conto che uno i suoi dall'altro. Interviene in modo netto anche il Presidente della Camera, Roberto Fico, che si schiera dalla parte dell'ex Premier, condividendo la posizione del Consiglio nazionale di due giorni fa. Siamo arrabbiati e delusi, spiega, non riesco a comprendere che il Ministro degli Esteri Di Maio attacchi su delle posizioni rispetto alla Nato e all'Europa che nel Movimento non ci sono e non se ne dibatteva prima. Per il momento Di Maio, che può contare sul sostegno di una ventina di parlamentari, non commenta direttamente, ma contro di lui continuano gli attacchi. La Vice Presidente del Senato, Paola Taverna, dice quando parla, sembra di sentir parlare Renzi. La replica arriva dal portavoce di Di Maio, «Stupiti e stanchi», scrive Peppe Marici, per gli attacchi che diversi esponenti del Movimento, titolari anche di importanti cariche istituzionali, rivolgono al Ministro Di Maio. Non si può indebolire il governo italiano davanti al mondo che ci osserva in una fase così delicata. Il gruppo dirigente Vettastellato, che sostiene Giuseppe Conte però, insiste nel considerare ingiustificati le critiche del Ministro degli Esteri, anche se sull'ipotesi dell'espulsione ora frenano. E uno dei vici di Conte dice non è all'ordine del giorno. Piuttosto però, le voci che circolano con più insistenza tra i gruppi parlamentari 5 Stelle invitano il loro ex capo politico a fare seriamente una riflessione. Se ancora si considera del Movimento, è nel caso di dimettersi da Ministro degli Esteri. E allora, la questione ucraina è il pomo della discordia all'interno del Movimento 5 Stelle. Allora, nel prossimo servizio andiamo a vedere qual è la situazione sul campo con le truppe russe che avanzano nella loro offensiva. Vediamo. Passo dopo passo stiamo andando verso una settimana cruciale. Ogni giorno stiamo facendo tutto il possibile per far sì che non ci siano dubbi che l'Ucraina meriti la candidatura. Proviamo ogni giorno che siamo già parte dell'Europa Unita, a dirlo il presidente ucraino Vlodomir Zelensky, elencando tutti i provvedimenti adottati dal Parlamento di Kiev in linea con le indicazioni di Bruxelles. Parole pronunciate al termine di una giornata nella quale Zelensky era tornato a rivolgersi ai partner diplomatici ribadendo non state sostenendo l'avanzata delle truppe ucraine fuori dal nostro territorio ma la difesa della nostra terra quindi, per favore, sosteneteci. Il tutto nella stessa giornata in cui il presidente ucraino ha parlato a una platea italiana quella del Global Policy Forum organizzato dall'ISPI Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e dall'Università Bocconi e al presidente di Confindustria Carlo Bonomi in visita a Kiev per un incontro dedicato alla partecipazione degli imprenditori italiani alla ricostruzione per il dopoguerra in Ucraina Zelensky ha detto l'Italia, per noi, è tra i paesi garanti della pace vorrei cercare di convincere tutti quanti ad aiutarci è una questione di vita o di morte l'Ucraina ha bisogno di aiuto rifornimenti, alimenti, armi ed equipaggiamenti moderni ma grano, cibo ed errate sono state al centro del dibattito lungo tutta la giornata anche a livello internazionale il blocco del grano ucraino da parte della Russia è un vero crimine di guerra ha detto Borrell l'alto rappresentante dell'Unione Europea in un consiglio affari esteri di Lussemburgo in cui si è discusso, appunto anche di emergenza alimentare chiediamo alla Russia di sbloccare i porti ha aggiunto Borrell è inconcepibile che milioni di tonnellate di grano siano bloccate in Ucraina quando nel resto del mondo la gente soffre la fame e la tensione tra Europa e Russia è destinata a restare alta ad accentuarla la decisione di Vilnius di un blocco al transito di beni soggetti a sanzioni europee verso l'ex clave russa di Kaliningrad situata tra Polonia e Lituania Mosca in risposta ha minacciato immediate contromisure col portavoce del Cremlino Dimitri Peskov che ha parlato di situazione illegale e senza precedenti ore tese di dialoghi febbrili dunque sul fronte diplomatico per chi è vintanto in vista del Consiglio europeo è già stata diffusa una prima bozza di conclusioni l'Unione si legge oltre a ribadire forte sostegno all'Ucraina per la sua resilienza economica militare, sociale e finanziaria rinnova alla Russia la richiesta di ritiro immediato e incondizionato delle sue truppe dall'intero territorio ucraino secondo i confini internazionalmente riconosciuti Ancora notizie dall'estero ma ci spostiamo in Francia perché naturalmente il Presidente Macron deve fare i conti con il risultato dei ballottaggi delle elezioni legislative il governo non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta ma quella relativa nell'Assemblea nazionale soprattutto c'è stato il trionfo della destra di Marine Le Pen che dagli otto seggi che aveva ne ha conquistati 89 e allora oggi il Presidente Macron ha convocato all'Eliseo i leader dei partiti vediamo Mostra le prime crepe la coalizione di sinistra che in Francia guiderà l'opposizione anti-Macron all'Assemblea nazionale oltre al partito socialista anche Verdi e comunisti si oppongono alla proposta formulata da Mélenchon di formare un unico gruppo dopo che il Presidente rieletto all'Eliseo per il secondo mandato soltanto due mesi fa ha perso il controllo del Parlamento Ensemble la coalizione di centro del Presidente si è fermata al ballottaggio di domenica per il rinnovo dell'Assemblea nazionale a 245 seggi ben al di sotto dei 289 necessari per avere la maggioranza assoluta da posizioni opposte l'estrema destra e l'estrema sinistra francese i veri vincitori del voto per il rinnovo dell'Assemblea condividono ora la stessa ambizione quella di rendere impossibile per Emmanuel Macron governare tallonato dall'alleanza di Jean-Luc Melenchon il leader della sinistra dura e pura francese la coalizione messa in piedi con verdi socialisti e comunisti NUP vola a 147 seggi ma la vera sorpresa di queste elezioni è il successo storico della destra di Marine Le Pen nel 2017 aveva portato in Parlamento 8 deputati ora ne ha 89 è il primo partito d'opposizione e ha già rivendicato la presidenza della commissione delle finanze e una vicepresidenza nell'Assemblea nazionale incarneremo dice Le Pen un'opposizione ferma e responsabile mentre affila le sue armi annuncia che non riprenderà la guida del Rassemblement nazionale per dedicarsi interamente alla presidenza del gruppo all'Assemblea dove cercherà di bloccare le riforme promesse da Macron come quella sulle pensioni e su questo la Le Pen troverà una valida sponda sinistra ma soprattutto Macron deve stringere alleanze che gli permettano di governare i candidati naturali sono i repubblicani che però dicono di voler restare all'opposizione se si tratti di strategia lo scopriremo nei prossimi giorni spostiamoci in Medio Oriente in Israele la maggioranza del Premier Bennett ha deciso di interrompere l'attuale legislatura la legge di scioglimento della Knesset il Parlamento sarà proposta appunto in Parlamento la settimana prossima intanto ci sono novità relative alla morte della giornalista palestinese con passaporto statunitense Shirena Abu Akleh il proiettile che l'ha uccisa è partito dalla posizione in cui si trovava un convoglio militare israeliano lo sostiene il New York Times dopo un'indagine durata oltre un mese le prove esaminate dal giornale americano mostrano che non c'erano palestinesi armati vicino alla reporte di Al Jazeera quando è stata colpita alla testa da dietro nonostante indossasse un giubbotto che la identificava come giornalista mentre si trovava nel campo di Jenin in Cis Giordania secondo il New York Times inoltre sono stati 16 e non 5 i colpi esplosi e rientriamo in Italia per parlare per tornare a parlare di Covid perché gli esperti mettono in guardia i dati delle ultime ore segnano una crescita dei casi di contagio vediamo tornano ad aumentare i ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive oltre 16.000 nuovi casi in 24 ore il tasso di positività al 20% la curva della pandemia riprende a salire gli esperti continuano a ripetere che non siamo affatto fuori dal Covid al contrario siamo proprio dentro la nuova ondata il cui picco è prevedibile a fine luglio la causa del cosiddetto Covid estivo è la nuova subvariante di Omicron la BA5 più diffusiva e contagiosa delle precedenti anche chi è già guarito dal virus o chi ha fatto le tre dosi di vaccino può di nuovo infettarsi con le sottovarianti come attesta anche uno studio dell'Università di Pechino pubblicato su Nature Omicron 5 è quattro volte più forte di una normale influenza avverte il virologo Fabrizio Pregliasco per questo consiglia l'esperto le mascherine vanno indossate anche al mare nei momenti di affollamento godiamoci l'estate dice il virologo Matteo Bassetti ma consideriamo che la sottovariante ha la contagiosità del morbillo ogni soggetto positivo può infettarne altri 15 ma nel clima di rilassatezza estiva mascherine e gel sono oggi usati molto meno la settimana scorsa le vendite di questi dispositivi di protezione sono scese dell'11% mentre quelle dei tamponi sono aumentate del 17,5% ma la gran parte sono test fai-da-te che possono falsare i numeri se il paziente non si autodenuncia come positivo il rischio spiegano gli esperti è una sottostima della reale circolazione del SARS-CoV-2 con un conseguente aumento dei ricoveri nelle prossime settimane e dei decessi a partire dalla fine del mese Ed ora l'allarme si cita le regioni chiedono lo stato d'emergenza e valutano la possibilità di ordinare il razionamento dell'acqua al nord come il divieto di riempimento delle piscine e l'uso dell'acqua per i soli fa bisogni primari vediamo L'urgenza è quella di trovare una soluzione agli effetti di questa lunga seconda ondata di calore e assenza di piogge con tutto ciò che ne consegue siccità e razionamenti dell'acqua per l'irrigazione e altri usi civili città bollenti a rischio blackout il Po alla sorgente a due metri sotto al Monviso è un rivolo d'acqua che scende in mezzo alle pietre bruciate dal sole un paesaggio lunare fino alla foce dove si è deciso di proseguire con l'irrigazione nonostante la situazione da semaforo rosso aumentano i comuni in cui l'acqua arriva con l'autobotte 14 nel Parmense 139 in Piemonte 25 in Lombardia e così ieri Parazzocchigi ha convocato un tavolo tecnico alla presenza anche della protezione civile per capire come intervenire la situazione è delicata detto il ministro dell'agricoltura Stefano Patonelli domani la conferenza delle regioni che chiederanno al governo lo stato d'emergenza e di mettere a disposizione risorse anche del PNRR per iniziare a creare nuove infrastrutture per l'accumulo d'acqua ed è proprio dalle regioni del nord che arrivano le richieste di aiuto più importanti ieri la regione Veneto ha stretto un accordo con Enel per il rilascio di 7 metri cubi d'acqua al secondo dal lago del Corlo vicino a Belluno il governatore Alberto Cirio ha fatto sapere che il Piemonte sempre più assetato ha chiesto aiuto alla Val d'Aosta per l'agricoltura ci sono colture che hanno bisogno assoluto di acqua le risaie soprattutto ha ricordato il presidente in serata è arrivata la risposta da Aosta non riusciamo ad aiutarvi anche noi stiamo riscontrando gravi criticità dovute alla carenza d'acqua situazione grave anche nel Lazio soprattutto nella provincia di Roma ha ricordato il governatore Zingaretti la procura di Roma ha disposto un'autopsia per cercare di far luce sulla morte del broker Massimo Bocchicchio avvenuta domenica mattina in via Salaria nella capitale a seguito di un incidente stradale il 56enne si è schiantato con la sua moto contro il muro di cinta dell'aeroporto dell'Urbe è stato necessario anche il prelievo del DNA perché il corpo è irriconoscibile dopo il rogo causato dall'incidente la procura ha aperto un fascicolo di indagini mentre la guardia di finanza ha acquisito il pc il cellulare e i documenti dell'uomo per capire se sia stato un malore o se il broker abbia voluto togliersi la vita Bocchicchio agli arresti domiciliari era al centro di una vicenda giudiziaria perché è accusato di aver truffato nomi noti dello sport e dello spettacolo per decine di milioni di euro e adesso lo sport ancora successo in Ungheria Budapest dove gli atleti del nuoto italiano conquistano tre medaglie d'oro anche un record del mondo con Thomas Cechon nei cento d'orso vediamo una giornata storica per il nuoto italiano con la piscina di Budapest colorata si ha forti tinte azzurre tre ori tutti in un sol colpo anche se la vera impresa l'ha compiuta Thomas Cechon che nei cento d'orso ha ottenuto il nuovo record del mondo in 51 secondi e 60 abbassando di 24 centesimi il precedente limite fatto registrare dall'americano Ryan Murphy ai giochi di Rio del 2016 col suo espluaccio Cechon ha inoltre cancellato il tabù del dorso alla rassegna eridata che sinora aveva visto il solo Stefano Battistelli addirittura 31 anni fa conquistare la medaglia d'argento sulla distanza doppia dei 200 ma ciò che colpisce del 21enne Veneto di Tiene è la naturalezza con cui ha commentato la sua impresa quasi come fosse una cosa normale per un giovane che con quei baffi di antico stampo ricorda il grande Mark Spitz vincitore di 7 medaglie d'oro ai giochi di Monaco del 1972 non l'ho detto perché portava magari male dirlo ma potevo dovevo già nuotare 51,8 51,9 ieri pomeriggio dovevo rifare praticamente la stessa gara di ieri tenendo gli ultimi 15 quindi l'ho fatta ed è venuto anche meglio del previsto la giornata trionfale per il nuoto azzurro è poi proseguita con l'impresa di Benedetta Pilato che vincendo i Centorana in 1,0593 ha dimostrato di essere divenuta ipercompetitiva anche sulla distanza olimpica la 17enne Tarantina infatti tre anni fa era salita sul tetto del mondo nella gara dei 50 metri e stavolta pur peggiorando di 5 centesimi il tempo ottenuto in semifinale è riuscita a mettersi alle spalle la favoritissima tedesca Anna Ehlend il terzo oro di questo indimenticabile lunedì lo hanno conquistato nel sincro Lucrezia Ruggero e Giorgio Minisini sulle note del requiem di Giuseppe Verdi la coppia romana ha riscattato i tempi bui della pandemia e la positività al covid che li costrinse a saltare gli ultimi europei e sulle ali dell'entusiasmo è giunto poco dopo il bronzo per le azzurre nella prova a squadre vinta dall'Ucraina davanti al Giappone e allora complimenti ancora agli atleti azzurri è tutto noi ci fermiamo qui rimanete con noi però perché adesso c'è subito Camilla Delai che ci dà tutti gli aggiornamenti sulla viabilità autostradale e poi torna il meteo con Paolo Sottogrona poi c'è Gaia Tortora conduce il dibattito i suoi ospiti questa mattina sono Barbara Floridia Pietro Salvatori Aldo Giannulli Luigi Di Gregorio Stefano Candiani e poi dopo Andrea Pancani conduce Coffee Break insieme a lui Vittoria Baldino Andrea Romano Pier Camillo Falasca Ilenia Lucaselli insomma una mattinata da non perdere a tutti voi una buona giornata noi ci vediamo domani grazie grazie Fabio buongiorno